Amici telespettatori, benvenuti alla nostra passione sport. Stiamo tornando, mi dispiace che stiamo tornando con qualche settimana di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scorso che era stato il 13 di ottobre, ma per motivi personali, non ultimi motivi di impegni di lavoro, ci stanno portando a spostare un po', ma non potevamo mancare a questo appuntamento. Purtroppo però, dico anche per questo tipo di impegni che ci si parano davanti, Giuseppe Bonanno non sarà con noi, non sarà con noi almeno nella prima parte, è sempre con noi, ma fisicamente non potrà essere per un suo impegno, che non sto lì a dire di cosa si tratta, e lo sostituisce, e spero, in maniera egregia, anzi sono certo che lo farà in maniera egregia, Filippo Di Cristina. Filippo Di Cristina che è un giovane giornalista che sta crescendo, e quindi lo inseriamo in maniera professionale in questa nostra produzione. Filippo, cosa hai da raccontarci? Chi sei? Presentati un po' ai nostri telespettatori. Un saluto a tutti i nostri gentili telespettatori, mi hai presentato abbastanza bene già tu, Gaetano. Sono un giovane aspirante giornalista con esperienze per quanto riguarda il web journalism e anche qualche diretta televisiva, mi auguro appunto, come ti sei augurato anche tu, di sostituire egregiamente Giuseppe Bonanno, non sarà un compito semplice perché, insomma, Giuseppe ha dato tanto a questa trasmissione, mi auguro di poterlo sostituire degnamente. Insomma, cosa dire Gaetano? Racconteremo lo sport che ci piace, racconteremo sia ovviamente a livello nazionale, sia soprattutto a livello locale, diversi ospiti in studio, come l'anno scorso, saranno insieme a noi. Insomma, per entrare nelle case di tutti voi gentili telespettatori che ci seguirete, speriamo, come l'anno scorso, ci auguriamo di allietare la vostra serata parlando di sport, dello sport che ci piace, dello sport pulito e di tutti i valori che lo sport porta con sé. C'è da aggiungere questo, se voi osservate bene, Filippo lo conoscete già, perché Filippo è stato ospite nostro per due puntate l'anno scorso. Quindi, amici, l'appuntamento è per lunedì 3 novembre alle ore 21, anticipiamo di 5 minuti, così stiamo 5 minuti in più con voi. Grazie, arrivederci, ci vediamo.